Ricordo male, su rigore contro la Juve in Supercoppa, poi in campionato non segna da prima di Natale, quindi la partita con la Salernitana. Che succede? Perché se l'attaccante titolare dell'Inter segna così poco c'è un problema. La motivazione principale è che gioca sempre, ma non solo in questo continente, anche nell'altro, perché è partito a settembre, a ottobre, a novembre, adesso anche a gennaio e tutte le volte fa là tre, due, due, due partite con l'Argentina e ritorna. Altri giocatori in giro per... Come Quadrado. Come Quadrado, che però... Il primo che mi viene in giro. Quadrado non gioca sempre. L'anno scorso 38 presenze da titolare su 38 in campionato. Come no? Gioca a terzino, gioca a... Sì, ma ci sono state partite in cui ha rifiatato, non ha giocato titolare, poi vabbè anche un'altra età, questo è vero. Poi c'è anche un altro discorso, ne parlavamo un po' prima. Ma Dzeko fa il trequartista nell'Inter e quindi è cambiato per Lautaro il gioco offensivo. Ne beneficia? Probabilmente no, perché avere un attaccante fisico vicino che però va nell'aria, gli fa fare quello che lui sa fare meglio. Cioè Lautaro, finora, non è mai stato un bomber da 20-25 gol, ne ha fatti 6-14-17 in campionato nei primi tre all'Inter. Adesso ne ha fatto 11, quindi la media è più o meno quella. Ma gioca meno bene perché non deve venire dietro. Cioè la cosa che lui fa bene, perché l'allenatore gli dice mi servi, devi stare più avanti. E lui però non è mai stato un rapace d'aria, uno che è, diciamo, è cinico, sottoporta. Invece definirlo un po' sopravvalutato, invece no. Sopravvalutato, secondo me no. Se pensiamo alle cifre di cui si parlava fino a prima della pandemia, no? Aveva offerto la clausola, il Barcellona, 111. 111 milioni, forse, non lo so, Emanuele, vedendolo così, non è un giocatore che vale quella cifra. Io sono convinto che se quest'estate arriva qualcuno con 80 all'Inter firma. Anche 75. 80 sono tanti, cioè vale 80 milioni Lautaro Martinez. Mamma mia. Magari vi dite sì. Oggi non arriva l'offerta da 80. Ma Leao quanto vale? Eh vabbè adesso. No, quanto vale Leao? Quanti gol ha fatto Leao? Quanti gol ha fatto Lautaro? Quest'anno 11 gol li ha fatti in campionato Lautaro. Ma Leao è uno che spacca le partite. L'ho capito. Leao ne ha fatti 7 più 3 più 1. Quindi 11 in totale. Come Lautaro. Lautaro 11 più 1 della supertorma. E allora spacca le partite questo. E non è un centravanti, quindi segna tanto più. Ragazzi, Leao, questo è il primo anno che sta avendo un po' di continuità. Ho detto, io ho fatto una domanda. Se vale 75 milioni Lautaro, quanto vale Leao? Io sono convinto che se qualcuno arriva con 50 al Milan anche Leao va via. 50, dici addirittura? Non scherziamo. Non scherziamo. Metterci tutto quello che vuoi. No. Tutto quello che vuoi. Ma ne è neanche 70, lo dico io. Mettendo sul piatto della bilancia. Facciamo proprio... Ah, pensa te. Io che faccio il banco. Cioè, secondo te, il tuo punto di vista, uno 50 milioni in Leao glielo danno? Pagato 30 milioni. Ma il Milan c'ha scritto lo conto. Però, però, perché rispetto all'opinione di Manuela. 38-2 anni fa. Però al di là di Leao, che non è sul mercato, Lautaro invece, non lo so, se lo è. Però la sensazione è che qualcuno lo è. Lo è. Lo è come dalle offerte. Ma in casa Inter, no? In casa Inter, se arriva un'offerta, viene presa in considerazione. Ma in casa di tutti, però, Emanuele. Sì. Ma ha maggior ragione dopo il rendimento, magari, degli ultimi due mesi. E anche il bilancio. Ci metto anche il bilancio in quella attenzione che ci deve essere. E il rendimento di Sanchez. Perché non è che si può sempre far finta di niente. Eh, no. Eh, ragazzi. Noi, quando ci tocca questo tasto non se ne può parlare. Ma no, ma sono cinque anni che mi parli di fallimento. L'Inter è prima. No, io non ho mai detto fallimento. Anzi, oggi è seconda. Sto dicendo che... No, no, no. Con Tohir tu mi parlavi di fallimento. Ma una cosa che sono io mi dicevo. Beh, guarda te. Guarda cosa ha fatto in Cina la sua squadra. Ha venduto a Suning e l'Inter ha crescido un po' di più. Guarda in Cina cosa ha fatto la squadra del signor Suning. L'hanno ritirata. Lui dice di Tohir. Che tu già hai tempi di Tohir. Sì, da quando lo conosco mi parla di fallimento. Io ti sto dicendo che oggi il debito dell'Inter qual è? Lo dicevi prima in pubblicità. Sì, ma non conta solo il debito. Ma non conta. 830 compreso tutto. Allora, uno che ha 830 milioni di... Non è attento se un giocatore gli viene... Ma anche in Milan non conta il debito. Costi e ricavi. La soffermibilità. Ma costi e ricavi. Avevate dei contratti farlocchi in Cina. Ma come contratti farlocchi? Ma l'ultima trimestrale sono diminuiti costi e aumentati i ricavi. Sono venuti fuori che erano contratti farlocchi. Erano giochi di scattole Cina. Allora, dimmi perché un giocatore se ne va dal Milan e per 500 mila euro in più va all'Inter. Perché l'Inter si può permettere per fallire? Perché per meno di 500 mila euro venderebbe anche sua sorella. Ma no, io ti sto dicendo non il giocatore. La società ti può fare l'offerta che il Milan oggi non ti fa. Perché Maldini ha detto a fine campionato Atalanta-Mila dobbiamo fare come l'Inter arrivare quattro anni consecutivi in Champions per poterci permettere di aumentare il montaggio. Infatti i rinnovi di contratti non ne abbiamo aumentati. Adesso ne ha fatto. Non ne abbiamo aumentati. 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 Infatti è esattamente quello che ho detto. Stiamo mettendo troppe cose dentro. Se arriva un'offerta per chi o qualunque giocatore viene presa in considerazione poi magari non viene accettata. Ma adesso non c'è un giocatore nell'Inter che è incedibile. Ma tornando invece all'aspetto tecnico. L'Autaro Martinez è ancora il titolare? Oppure c'è un Sanchez che... No, perché Sanchez gioca dove gioca Dzeko. Cioè parte da lontano. Quindi L'Autaro, paradossalmente, l'alternativa è Caicedo. Perché Caicedo è più attaccante che riempie l'area di rigore. L'Autaro gli piace venire dietro ma oggi l'Inter non ha bisogno di un altro che viene dietro. Vengono tutti dietro. Correa dietro, Dzeko dietro, Sanchez dietro. Ma infatti l'errore di fondo è la costruzione in estate, dici tu. Che è forse il più grande e unico errore di Marotta degli ultimi tre anni. Io ho preso Correa anziché. Correa ha 31 milioni di euro che tra l'altro è scattato ieri l'obbligo di riscatto perché era il primo punto fatto dal 2 febbraio in poi con Milano ha perso. Però lì Zappata costava troppo, Vlaovic costava troppo. Però hai preso un giocatore che non ti serve. Poi c'è incredibile. Zappata rotto, Zappata rotto, Belotti rotto. Io resto convinto che Turam, che era quello che volevano prendere davvero, era il giocatore perfetto. Il problema è che si è spaccato due giorni prima che firmasse il contrato. Sì, proprio a fine mercato. Ma l'Inter aveva scelto Turam. Però poi lui gioca una parola con Gladbach, si rompe e l'Inter è costretto a cambiare. che non segna, ma entra Sanchez e fa bene. Appunto. E fa bene. Sanchez fa bene. Quella è la fortuna dell'Inter. Perché Sanchez nell'Inter non ci doveva stare. Un'altra cosa che non ho capito nella partita di ieri. La posizione di Dzeko nei primi 20-30 minuti. Gioca sempre l'Aezio, dietro. Fa il centrocampista. Ma tanto dietro. Ma sempre tutte le partite. Ma è un centravanti. Infatti vedi, dietro non è un centravanti. Comunque ieri poi alla prima situazione ha fatto gol. Perfetto. Ma questo dimostra che il Napoli ha fatto sì una buona partita nel primo tempo. Ma l'Inter era molto arretrata. Quella che doveva essere la punta centrale. No, ma no. Come dice sempre. L'Azio è imparata da lui. Perché l'appoggia poi su. L'Autaro fa il cross sul gol dell'Inter. L'Autaro e lui si fa colore. Però dico, come dice sempre Tiziano, quest'anno l'Inter gioca tutto diverso dall'anno scorso. Hanno segnato in venti diversi. Dzeko fa il trequartista. E si inseriscono gli esterni soprattutto. Barella e Cialanoglu ieri meno. Ma di solito sì. E l'Autaro in questo nuovo meccanismo è quello che ne beneficia di meno rispetto a giocare con un Lukaku. Che per esempio lo faceva uscire anche dall'area di rigore. Però nell'Argentina, per esempio, lì gioca prima punta senza altre punte. E più o meno il gol, le ultime due l'ha fatto il gol. Però ripeto, poi noi quest'anno ci aspettavamo più gol da L'Autaro. Ma L'Autaro a 24 deve fare 25 quest'anno. Non l'ha mai fatti 20-25 gol. L'anno scorso che il suo record ha fatto 17. Oggi ne ha fatti 11. Quindi può concludere anche quest'anno a 17-18. Ma vedi, se tu devi fare un giudizio su L'Autaro è un conto. Se devi fare un giudizio sulle capacità di realizzazione di gol dell'Inter, è un altro. Sono basse le percentuali realizzative rispetto a quello che crea. Ma se non hai capito, tu non hai bisogno paradossalmente che L'Autaro ti segni 20 gol. Perché i gol che mancano a L'Autaro per arrivare a 20 gol vengono segnati, l'hai detto, da 20 marcatori diversi. Hai un gioco che ti porta a segnare i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti. L'Inter realizza poco. Quindi togli quel tipo di mentalità radicata che deve avere un bomber da 30 gol. La Juventus con un bomber da 29 gol è arrivata a quinta, anzi quarta perché gliel'ha regalata ai Lanziano. Rispetto ai tiri, l'Inter fa più tiri con il Napoli in porta a percentuale realizzativa al dodicesimo posto. Cioè, spreca. Ma cosa te ne frega? Ma la squadra segna di più lo stesso. Ho capito, segna di più. Ho capito. Ma nel complesso e in lotta per lo scudetto, punto a punto, se invece realizzava tutte le occasioni create, poteva stare a più cibo. Ma ho capito, loro non realizzavano i difensori le partite decisive? O i centrocampisti. Magari ti segnava 20 gol lui e ne facevi 10 in meno dall'altra parte. Quello che a te interessa, come dovrebbe interessare. È il numero di gol totali che segna la tua squadra. E non Lautaro o Pincopale. E poi pubblicità. Vai, Ezzio. Rapidissimo. Volevo dire esattamente quello che ha detto Tiziano. Quindi questo. I mesi a Gianni, volevo dire che se mai ce ne fosse stato bisogno, abbiamo avuto l'ennesima conferma che nel mondo d'Arazzurro va tutto benissimo. E' tutto qui. Perché me lo dovete fare arrabbiare al momento della pubblicità. E' tutto rosa. Ma è un punto dalla prima prima. Non hanno problemi economici. Non hanno problemi di... Non hanno problemi. E poi sai cosa ti dice? Però siamo in testa classifica. Perché parlate di fallimento? Una volta. Adesso non hanno... Ma dobbiamo dividere le cose. Devo andare in pubblicità ragazzi. Tra due minuti preparati perché iniziamo anche con te. Perché a Taranta Juve non l'abbiamo ancora trattata. Ma parliamo del bilancio della Juve o parliamo solo... No, qui in grano ce l'hanno messo. Nessun problema. Anche a poco, due minuti. Nessun problema. Guardiamoci il calendario. Sì, ce la posso fare. La classifica, la classifica. Quando si parla di Toro io parto. Se è il tuo calendario... Ragazzi non mi fate parlare di Toro per più in caso. Se è il tuo calendario la classifica manca aspettato. Grazie. Dico bene? Allora, eccoci qua. Grazie regia. La classifica. Com'è cambiato? Perché è avvenuto, è vero? L'Inter deve ancora... E mi la mi testa la classifica. L'Inter deve ancora recuperare. Ma ascolta, non fare anche tu lo spiritoso come i pirla che c'erano qua prima. Solaroli, come bevi, eh? Ti prendi. Solaroli era proprio il sole. Che sei una persona intelligente. No, adesso non esagerare. Che io ti stimo. Ma per altri motivi non calcistici. Non scendere a quel livello. Però viene in testa la classifica. Oggi sembrava... Il miele. Gli collava il miele dalla bocca e lasciamo perdere da dove altro. Ecco, grazie. No, dicevo, è vero che, ricordiamo, l'Inter deve ancora recuperare la partita con il Bologna. Ma no, ma lascia perdere. Quindi ha questi tre punti. Però... Il Milan ha già vinto il campionato. Lascia stare. Dai, Elio. Dai, adesso non esageriamo, però. La partita che deve recuperare l'ha già bella che è persa. Per cui il Milan ha vinto. Vedi come sono in sofferenza adesso. Adesso è cambiato. E naviga, vengono in poppa verso lo studente. Elio, Elio, la Juve non solo non muore mai, ma ti ammazza. Oh, adesso attacca quest'altro a dire che facciamo la rimonta, capito? La rimonta. Io mi ritrovo in mezzo. Dieci partite fa eravate al posto del Bologna, scusami, guarda la classifica. Ma noi siamo tranquilli, lì noi dobbiamo entrare in centro. È vero sì o no che erano dieci partite fa eri in classifica? Ma certo, ma di fatti era normale che ci trovavamo in quella posizione. Era il posto del Bologna a momenti. No, no, era tecnicamente. Quattordicesimi. Quattordicesimi. E guarda, sono dieci, il Bologna tredicesimi. Non sarebbero gli unici, Valerio, che sostengono lo scudetto Juventus. Quella partidica frase, non succede ma se succede. Non succede ma se succede, nella fantasia di tifosi è giusto che ci sia perché bisogna sempre pensare positivo. Grande Berardi, un gran tiro avrebbe meritato più fortuna. È andato proprio al sopra all'incrocio. Però voglio, giusto per finire il discorso, basta un mezzo passo falso e visto che comunque la distanza è ancora eccessiva. E lo farete. E tutto ritorna sui binari che dicono loro. Che le vincete tutte. Che le vincete tutte. Non è detto che le vinciate tutte. Non è assolutamente detto, però mi stupisce il vostro rendimento leggermente calante. Sì, calante. L'unica sconfitta vera l'abbiamo fatto con la Lazio. Nel derby con loro non è una sconfitta vera, secondo me. È una sconfitta pesante dal punto di vista... Ma chi l'ha detto? Prendi due gol in sette minuti dopo non aver fatto fare un tiro in Porta Milano. Hai sbagliato completamente i cambi. Tu hai tolto Cialanoro e Brozlic, hai messo Vidal e Vesimo. C'è una ragione. C'è una ragione. C'è una ragione. Se non avesse fatto quei cambi lì probabilmente andava diversamente. Infatti, e poi fra parentesi dei cambi non dovuti a motivi tecnici o medici, ma in vista perché aveva paura di una possibile ammunizione correlativa a squalifica contro il Napoli. No, però voglio capire, se scherzi dicendo che il Milan ha vinto già il campionato... Sì, sì. Sì, è così. Secondo me sì. Fatemi andare da Massimo, Massimo. Allora, dunque, tu avevi già fatto le tue previsioni, non ti stiamo chiedendo previsioni in questo momento, ma è avvenuto questo fatidico sorpasso. Poi, è vero che ancora tutto può succedere, però anche a livello psicologico il fatto che tu abbia un'altra squadra in testa della classifica forse un pochino va a impattare. Non lo so quanto posso andare a impattare. Perché non sono nello spogliatoio dell'Inter, né tantomeno quello del Milan. Quindi bisogna viverle all'interno le cose per poterle... Io so solo che gli scudetti si consegnano a maggio, non si consegnano né a febbraio, né a marzo, né a gennaio. A me sembra che qui da settembre in avanti c'è stata una consegna di scudetti già almeno a tre o quattro squadre. Quindi io so che si consegnano a maggio. Io credo che l'Inter, dal poter ammazzare definitivamente il campionato, perché credo che, se non sbaglio, era più quattro nel momento in cui ha affrontato il derby, aveva, diciamo così, non un match point. Nel gergo tennistico aveva un break point. Break point significa che gli strappi il servizio all'avversario e quindi ti potevi portare a più sette. Con il recupero sareste andato a più dieci. Quindi ha avuto, diciamo così, la palla per poter, non dico chiudere definitivamente, ma mettere una bella pietra. Cosa che non c'è stata e cosa che mi ha sinceramente anche stupito, perché pensavo che l'Inter avesse quell'autostima necessaria nei giocatori, soprattutto per poter affondare il colpo. Non c'è stato, ci godiamo questo finale di campionato, perché sicuramente sarà un bel finale, ma credo che rimanga a tre squadre questo finale per lo Scudetto. Secondo me Juventus e Atalanta si dovranno contendere il quarto posto. Il Napoli potrebbe essere una sorpresa, perché se uno guarda il bicchiere mezzo pieno può anche trarre qualche nota positiva dal pareggio che ha fatto con gli interieri. Ho preannunciato che saremmo entrati nel tema Milan. Il Milan oggi riesce a portare a casa a tre punti importantissimi per la classifica. È avvenuto, come dicevamo poc'anzi, il sorpasso. Sì, parliamo ne tanto. Parliamo del Milan. E ricordiamo questo sorpasso, Noelio. Stasera parleranno della Juve, ma parliamo del Milan che merita il posto che occupa. Ecco. Mi piace perché non sono frecciative. E' vero, Massimo? Beh, in questo momento chi è davanti vuol dire che merita. Ma, Massimo, chi è davanti vuol dire che merita, dicevi? Sì, però, scusate, manca una partita all'Inter. Eh sì, con l'Inter. Massimo, Massimo, scusa, non conta. Quella partita lì non conta, perché i milanisti la danno già per persa all'Inter, capito? Per cui non conta. Per cui parliamo di questo meraviglioso Milan in testa. Oggi è il 13 febbraio e questa è la classifica. Sì. Quando recupero... Scusami, Max, tu puoi recuperare il Rai? Dimmi, Massimo. Io, onestamente, visto il Bologna delle ultime partite, la do per vinta all'Inter. Quindi, in questo momento, io reputo l'Inter, a mio avviso, è vero che le partite vanno giocate. Per l'amor di Dio. Però, reputo ancora l'Inter in testa. E dico ancora, come l'ho detto all'inizio della stagione, l'Inter, secondo me, è la più attrezzata e mentalizzata per arrivare fino alla fine. Secondo me. Per arrivare fino alla fine vinci. Più tardi entreremo nel merito. Anche perché... Abbiamo lo scontro diretto con la Juventus. Dobbiamo ancora affrontare alcune partite difficili. Dammi retta. Quest'anno è rosso-nero lo scudetto. Non c'è verso. Ma sono in sofferenza, se dicono così. Avete questa amichevole con Liverpool, che penso... Ma non frega niente. Ah, non frega niente. Comunque, tornando a noi, quando sei inferiore di una squadra, è inutile che stai lì a sbavare. La dai per... Cioè, ci riproverai il prossimo anno. Vabbè, apri e chiudo parentesi. Se l'Inter, commentavamo prima con Elio, sempre nel fuorionda, riesce a strappare un pareggio contro il Napoli ieri sera, sebbene ci fossero delle assenze gravi, sebbene comunque non fosse la squadra in grande, grande spolvero, effettivamente forse è un sintomo, no? Di questa energia, di questa carica dell'Inter. Ma quali erano queste assenze gravi? C'erano Geko, Lautaro... Bastoni mancava. Poi va bene, non avevi anche Inzaghi, che comunque sai, non aveva il mister in cantina. Inzaghi faceva l'allenatore. Sì, certo, però sai, non ha tutto fatto. L'unico è Bastoni, e comunque hai messo Di Marco. Diciamo una cosa, non mi sembra che... No, volevo puntualizzare, perché magari qualcuno dice che ho perso qualcosa. Ha dato un segnale importante all'Inter di non aver perso, perché siamo d'accordo tutti che nel primo tempo il Napoli poteva tranquillamente segnare un paio di gol e se portava a casa i tre punti nessuno diceva niente. Assolutamente. Hai dato un segnale, non hai perso, non hai perso. Ma se quelle sono le partite più significative... E ti tengono a galla. Perché? Sono le partite che psicologicamente ti tengono a galla. Ma la cosa clamorosa è che era l'euforia di Spalletti alla vigilia della partita quando ha detto comunque vada, è una figata. Alla fine mi sembra che di figata c'era poco e lui era abbastanza, un pochino, cocherizzato. Abbiamo anche le partite di Spalletti. No, c'è che ha iniziato quel sermone che è parlato. Ma piuttosto mi stupisce il Milan al primo posto, io non so come fanno ad essere sinceramente al primo posto, non per demeriti, perché il Milan al primo posto in questo momento, io non lo vedo anche perché durante il derby l'Inter ha dominato. Se non era per Vlaovic, che ha fatto un gol da solo, se l'ha inventato, tu a quest'ora sai quanto eri incazzato da ancora... Ma certo, nel secondo tempo la Juve contro il Stassuolo ha tirato tante volte in porta. Il primo tempo ti do ragione. Pegolo era nove anni che non giocava, ha fatto delle parate eccezionali. E' stato meritato il gol. Ma c'è il portiere, il portiere è in porta per quello. Il Milan ha fatto due tiri in porta e ha vinto il derby. No, è riuscito a segnare, a vincere un derby in rimonta, due gol in tre... ...catole con Istanbul, capite cosa vuol dire prendere dei gol così? Insomma, settimana da Dio, settimana perfetta per il Milan di Mr. Pioli. Furio, vinci la Coppa, vinci il derby, vinci comunque la partita di Olo. Vinci la Coppa, aspetta. No, la partita di Coppa. Ma sai, io ho un cuore tenero. No, vinci la Coppa avevo perso il capito, scusa. Io neanche più di uno l'avevo perso. Cambiamo proposizione, vinci in Coppa, vinci nel derby, in campionata. che era negli ultimi dieci derby, aveva vinto uno solo, il Milan sei sconfitte, tre pareggi, una vittoria, quindi abbiamo interrotto grazie all'Inter una serie negativissima. e oggi ha vinto una partita complicata, a un certo punto sicuramente meritato. E' sblocato subito, però c'era a dire. Sì, però poi non sei più riuscita ad andare in gol, nonostante anche qui c'è stato Falcone, il portiere... Hai caricato il surplus? No, 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 che surplus, il surplus era questo. Il portiere allena meglio. No, e Matisto dice, Matisto non può parare. Matisto dice, no, anche Guelgo non può parare. Però è stato, non era, dovevi fare un gol in più. Dovevi anche giocare meglio e tirare di più in porta. In porta? Chiudi una parata, ma pensa al tuo di portiere. No, io sto pensando al confronto che mi stai facendo tra oggi e Pegolo. Io ti sto dicendo, ma allora c'era stato anche il portiere della Spezia, Provedel, che aveva fatto il cinema. Il portiere è un giocatore fondamentale in una squadra di calcio. Ti dico che il Milan è primo in classifica perché in questo momento se lo merita. Perché l'Inter è una partita in meno. Adesso vedremo l'Inter cosa farà. Se no se avessi indietro ancora di 4 punti. Saremo ancora indietro, va bene. Eh sì, sareste ancora indietro. Oggi, se fai rivedere la classifica, o te l'aggiusti tu con il bosti che ti metti su, sai, quelli stick e cose, ma purtroppo per te in questo momento la classifica, fino a prova contraria è questa. Per me o per lui? Per te. Ah, per te. Ah, ma stava parlando... Vabbè, va. Ma io parlo con tutte e due, guarda. Io, guarda, ti dico la verità, purtroppo per me è un termine errato. No, è un termine errato, è errato, è errato, è errato, te lo dico io che è errato. E devi affrontare il Liverpool. Hai una squadra... Ma chi se ne frega del Liverpool? Stiamo parlando del campionato. Eh, infatti. Insisti sul Liverpool. Ma il Milan... Ma no, ma vuoi cercare la polemica che non c'è. No, ma non c'è nessuna polemica. Tanto voi siete fuori dalla Coppa, siete fuori? Fuorissimo. E anche in malo modo e anche in maniera assolutamente, diciamo, non dico vergognosa, ma umiliante. Ma umiliante. Ti devi preoccupare della tua Coppa. Non ti preoccupare. Adesso stiamo parlando del campionato. Adesso ci sono due derby. Il campionato hai ragione, guarda la classifica, primo Milan, secondo Inter. Io però, perché non posso sentire una squadra che è prima in classifica o seconda, c'è un punto della dire, siamo favoriti per vincere. Non lo vogliono dire. Vedi che non si sbilancia. Ma no, ma siete favoriti voi. Ma senti, ma vai anche tu. Non vi dovete sbilanciare. Io vi sono sbilanciato. Perché Nella l'ha già vinto lo sculetto. E ti dico anche, ti dico anche che se la Juve vince le prossime due partite, barra tre, e loro leggermente si fermano... Beh, allora se mio nonno aveva la... Guarda, c'ho il coraggio di Dio, ma che ragionamento è il coraggio di Dio, ma quale siete prima in classifica? Guarda, io ti dico una cosa... Perché, allora io scusami, se mi ritrovo secondo in classifica, non c'è tempo di dire... Sì, no, tu secondo in classifica non lo sei, non lo sarai mai quest'anno. Non illuderti. Perché io non posso pensare a voi. Io ti dico che l'amico... È una pirlata. L'amico, il maestro, il collega Elio Corno, al posto dei capezzolini c'ha due stelle quest'anno e non gliele strappa nessuno. Beh, vedi come fanno, uno lo dice all'altro, uno lo dice all'altro. Devo intervenire io perché altrimenti andiamo avanti per tutta la puntata oggi. Vai a intervenire Massimo, che è l'unico che dice cose serie. Riparto da Massimo per il Maggi, dopo la pubblicità tra poco. A questo punto non mi piace quando Pioli sta a sette punti dall'Inter, parla, si guarda dietro, che pensa a qualificarsi in Champions, che pensa... E anche oggi dice che pensa a fare più punti dell'anno scorso. Dai, sei lì, sei primo, cosa pensi di salvarti? Giusto, giocatela, no? Cioè, devi dire. Quest'anno punto lo scudere. Hanno paura a dire una cosa, scusami, per poi dopo, se non la raggiungi, gli appioppano e l'hai fallito. Non è che hai fallito, però è sicuramente... Scusami Furio, ma a oggi una società e una squadra come il Milan, visto che è in questa posizione di classifica, devi puntare a vincere. Certo, assolutamente. Se non altro, perché poi sei uscito, come giustamente hai detto tu, sei uscito male dalla Coppa, sei in semifinale di Coppa Italia, qualcosa devi portare a casa. Quel verbo crescere, che a me piace fino a un certo punto detto dagli allenatori, perché il crescere mi sta bene forse detto da Dionisi nel Sassuolo, mi sta bene detto da Italiano della Fiorentina. Da Iurici del Torino. Al Milan va bene un anno il crescere. Poi dopo, a Iurici e Torino, all'Inter, al Milan, alla Juve, in queste squadre, va bene un anno dire una roba del genere. Poi dopo, purtroppo, o fortunatamente, se sei in un grande club del genere, devi vincere. Infatti Massimo, se ne avevamo parlato a tempo debito, quando era stato rinnovato il contratto a Pioli, era stato raddoppiato l'ingaggio da 2 a 4 milioni, ma in realtà era stato allungato di un solo anno, invece di scadere nel 2022, andava a scadere nel 2023. Quindi noi fra qualche mese, a inizio campionato, staremo ancora a parlare del rinnovo del contratto di Pioli. Quindi evidentemente è chiaro che la crescita deve far rima con vittoria, non solo la nostra padrona di casa, ma nel vero senso della parola. Perché se no, allora aveva ragione Enzo Ferrari, che secondo è il primo degli sconfitti, e da lì abbiamo finito tutti i discorsi. Beh, il possesso parla nettamente a favore del Napoli. Gli attaccanti sbagliano i gol, giusto? Allora le occasioni che ha avuto il Napoli, ha sbagliato, non l'ha messa dentro. Nel secondo tempo l'Inter è leggermente cresciuta sul piano del gioco, eccetera, ha sbagliato, ha fatto quel gol dove non era facile farlo. Zecco, devo dire, è stato bravo. Poi il Napoli ha avuto ancora un paio di occasioni, l'Inter ha avuto anche un paio di occasioni, e sono state fallite. I portieri hanno parato. Quindi a quel punto lì che si vuole dire? Ha zardato cosa? Abbiamo azzardato, come ha zardato il Napoli, di poter vincere il match. E forse, Elio, solo quello che ha sorpreso è il primo tempo dove per tante partite non si è visto questo, dove un Inter non è riuscito a imporsi a livello del gioco. Ma noi nel derby abbiamo dominato per 70 minuti. Ma io sto parlando della partita di ieri contro il Napoli. Il Napoli ha schiacciato l'Inter nel primo tempo. Il primo tempo, due tempi sono. Il Milan ha fatto due gol e basta, mentre il Napoli ha schiacciato l'Inter nel primo tempo, cosa che non avveniva da tante partite. Ha avuto, diciamo, molte più occasioni di gol. E ha segnato solo su calcio di rigore. E non su azione. Comunque, il Milan ha un portiere e è stato il migliore in campo nel derby. Per dirti come, comunque, sia un gioco di squadra. Adesso io non è che voglio inventarmi il ruolo del portiere, ma quello del Milan non fa sicuramente rimpiangere. Ma che oggi ha fatto protagonista. Il portiere fa, come no? E allora, comunque, il Inter per 70 minuti avrebbe meritato di vincere il derby per 1-0. Se fosse finito 1-0 non potevi dire niente. Esatto. Poi prendi due gol in tre minuti e ti brucia la testa per diverso tempo. Sei stato gentile. No, ma Elio non è... Cioè, Elio se potesse rigiocare quella partita non farebbe quei cambi. Esatto, bravo. Finirebbe il primo tempo almeno sul 2-0. Farebbe il secondo tempo mettendo una linea per non fare più passare il Milan. Il derby si gioca così. Stato spaventando. No, no, non spaventarti. Il problema è che il signor Inzaghi il derby di Milano non lo conosce. Non può pensare a Napoli la partita successiva di farci togliendo due giocatori perché sono ammoniti e te me li sono diffidati. Non c'entra. A Napoli non l'ha fatto. Vedi, a Napoli non l'ha fatto. Ci mancherebbe. E lo credo. Il senatore lo dice che qualcosa hai imparato. Ma tu se non conosci Milano se non conosci come Roma come degli altri città non me ne frega niente. Sì, ma non c'entra niente. Qui adesso siamo a Milano qui la targa è mi. Ho capito. Ma il derby sia a Roma che a Milano. Lo devi ducere e basta. Ma lì basta che il problema a Roma non sentono il derby. No, ma io non sento. Io ti sto parlando del derby di Milano. Era una partita che l'Inter meritava di vincere che ha perso malamente e che ha rischiato di lasciare anche delle scorie abbastanza pesanti. Sono d'accordo con te quando parli dei cambi. Non sono d'accordo sul fatto che Inzaghi non conosca la parola derby perché ne ha fatti 500. No, ma nel derby tu non vai a togliere Cialanoglu e Brozovic per mettere Vidal e Vesino. Fortissimo, è fortissimo questo ragazzo, fortissimo. Adesso abbiamo detto fortissimo. No, l'hai detto tu fortissimo. Ma è forte Traoré. Tu non mettevi un penni su Vlaudici. Che ha segnato anche contro la Juve ha fatto un gran gol. L'abbiamo già visto. Massimo, per parlare di numeri ieri in Napoli-Inter 13 sono stati i tiri in porta da parte dei partenopei mentre la Fora Vinza gli ha risposto con 8 tiri in porta. Poi è vero che, come diceva un po' che anzi, alla fine conta l'azione concretizzata però sicuramente è da valutare anche, no? Una questione di tiri in porta totali. Ma io credo che l'Inter deve venire fuori rinforzata dal derby paradossalmente anche se non hai portato a casa punti però sinceramente ho visto l'Inter giocare una bellissima partita. è vero le partite poi durano 95 minuti e lì l'Inter si è persa gli ultimi 20 è vero però nei primi 60-70 anche solo nel primo tempo l'Inter veramente aveva strameritato mettere sotto il Milan insomma non è proprio così semplice mentre ieri secondo me insomma mi aspettavo io mi aspettavo qualcosa di più dall'Inter soprattutto dopo che ha preso il gol su rigore mi aspettavo una reazione reazione che non c'è stata è venuto fuori questo gol insomma abbastanza anche trovato in modo abbastanza fortunoso e poi sì hai saputo soffrire ma io quando sento gli allenatori che dicono abbiamo saputo soffrire vuol dire che sei andato in sofferenza vuol dire che qualcosa non è andato perché se soffri è vero che di fronte c'era il Napoli però mi è sembrato scusami Elio mi è sembrata un Inter un po' di messa rispetto all'Inter del derby ribadisco io ho preferito l'Inter del derby che l'Inter di ieri poi uno dice vabbè però io ieri ho portato a casa un punto e nel derby zero ma è un caso tu non hai portato a casa tre punti nel derby secondo me è un caso ci sono state attenzioni incredibili nel derby perché anche il secondo gol di Giroud ragazzi a me avesse fatto un gol così un attaccante mi avrebbero sostituito De Vrij ha fatto la ha fatto la brandina quella da spiaggia De Vrij ha fatto una mitraglia Giroud non deve neanche immaginare che arrivi il pallone non può far girare quella maniera lì si fra Tragonesi si è anche d'appoggio facendo anche d'appoggio a parte che Giroud ha fatto una roba grandissima tacco ha fatto fin di andare da una parte si però si è fatto un po' uccellare anche De Vrij si è fatto anche un po' uccellare De Vrij certo come no e Andanovi ci ci ha messo ha ragione massima il problema di farsi uccellare è che un difensore non gioca così in area di rigore sul centro avanti avversario principalmente l'errore vabbè come sapete bene il gol è merito ed è merito dell'avversario in quel caso secondo me è più demerito ci sono fatti due errori in una volta solo allora Giroud c'era e ha fatto quello che doveva fare il De Vrij non ha fatto assolutamente quello che doveva fare è della cosa più cioè uno dieci l'altro zero infatti la lotta è Milan-Juve vincerete no basta non ne possiamo più a proposito di Milan-Juve attenzione perché nei nostri studi è appena arrivato Alberto Gianbruno che poi più tardi troverete lo aspetto lo aspetto